Si chiama Freedom, oltre il confine, il programma di Roberto Giacobbo che entra in onda su Rete4 a partire da mercoledì 22 maggio e dedicato quasi interamente alle bellezze dell'Abruzzo. Il programma del giornalista e autore televisivo, innamorato della regione e dell'Aquila, è stato presentato questa mattina a Palazzo Fibioni, alla presenza, oltre che dell'autore, anche del sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi, della nuova assessora al turismo Fabrizia Quiglio e un incontro voluto dall'assessorato regionale al turismo che ha sposato il progetto. L'assessore al turismo Mauro Febo ha definito il programma di divulgazione storica di Giacobbo un'ottima occasione per invertire la rotta e mettere in campo strategie specifiche per far conoscere la bellezza e l'unicità della nostra regione. L'iniziativa presentata oggi, ha spiegato l'assessore, vuole essere un'opportunità per raccontare e promuovere finalmente un turismo più strutturato, consapevole e capace di generare nuove opportunità di sviluppo economico. La nuova edizione di Freedom avrà al centro l'Abruzzo e l'Aquila in otto appuntamenti in onda in prima serata su Rete4 per proporre la divulgazione storica e scientifica e archeologica dell'Abruzzo. I problemi sono sempre tanti e non dobbiamo nasconderli, anzi per carità, però è anche vero che bisogna parlare delle buone notizie, bisogna parlare delle bellezze, della storia, delle potenzialità, perché se non sperassimo nel futuro e criticassimo solo il presente con tutte le ragioni del mondo non ci sarebbe progettualità, voglia di fare ancora. Io sono un esperto in buone notizie, lascio agli altri colleghi parlare di altro e così magari sia un panorama completo. Ho scelto l'Aquila, ho scelto i suoi dintorni per la gente, per le persone, per la schiettezza, per la verità. In cinque puntate ci saranno parti riservate all'Abruzzo e all'Aquila, nelle prime due puntate racconteremo la storia degli eremiti e di Celestino e quindi viaggeremo dai dintorni fino al cuore dell'Aquila, ma non solo, perché poi parleremo anche di altre cose. E sempre in una veste positiva, raccontando la ricchezza culturale e territoriale di questo luogo, in modo che gli italiani scoprano anche queste bellezze, perché ricordiamoci che i programmi nazionali vanno dalla Val d'Aosta alla Sicilia e tutti così potranno vedere il bel Abruzzo.